Quali sono le attività che rendono più facile la vita di chi facile e non ce l'ha? In realtà con il doppio vantaggio di aiutare sia chi riceve il montaneato che chi lo fa, perché credo che la bellezza che sono certa sposi, chi sceglie di passare il proprio tempo libero investendo nelle necessità altrui sia anche un distante ma neanche poi tanto beneficio per la propria vita, per la propria coscienza e per la propria anima.